SIGES Film Festival al London Film Festival Parliamo del film che ha vinto SIGES Rare Export Christmas Tale di Jalmari Lander Film scandinavo, francese, svedese, norvegese E' presentato anche qui al London Film Festival E' praticamente un film della Walt Disney Però horror, cattivo La storia di questo sorta di Scrooge cattivone Che vuole cavare sotto i ghiacci norvegesi Per trovare Babbo Natale In realtà trovano un vecchio, tutto raggrenzito, orribile, mostruoso Nudo, agghiacciante, che non parla Poi scopre che in realtà si tratta di uno degli aiutati di Babbo Natale E questi escono a centinaia per invadere il paesino lì vicino Tipo zombie Alla fine avrà alla meglio invece il consumismo Perché li prenderanno e li porteranno in giro per i supermercati E' ovviamente una satira molto divertente Per, diciamo, una favola un po' per tutti Però con un retrogusto politicamente scorretto E' bellissimo E' ovviamente un po' per i supermercati E' ovviamente un po' per i supermercati E' ovviamente un po' per i supermercati